Mia sorella prese la pallina e in due giorni l'eruzione cutanea sparì completamente. Tutti i professori si stupirono e parlavano di un miracolo. Eh sì, quindi accadono ancora i miracoli. La pallina distagnola alla fine. L'ho riavuta indietro. Lui è stata la persona che nella mia vita ha avuto un significato molto, molto speciale. La persona che era al di là di ogni possibilità di comprensione, anche oltre ogni possibilità di spiegazione. Era qualcosa che ci accadeva nonostante i nostri pensieri razionali. Sebbene cercassimo e trovassimo sempre una spiegazione per ogni cosa, e sebbene non avessimo mai creduto alle cose mistiche, quella roba non esisteva per noi. Erano assurdità. Ma poi arriva quest'uomo e mi guarisce, in un modo, devo proprio dirlo, mistico. Ed è successo a me, proprio a me. Anche la signora Knolman entra in contatto con le palline di stagnola di Bruno Gröning, che egli distribuisce ai suoi amici come ricordo. Dice delle palline che sono caricate attraverso lui con la forza divina. Mia sorella, che è un po' più giovane di me, aveva un'eruzione cutanea del tutto inspiegabile e incurabile, che era iniziata lentamente e gradualmente si era diffusa in tutto il corpo. E poiché i medici non potevano più fare niente per aiutarla, si recò in ospedale, nella clinica universitaria di Münster, dove vive. Così fu ricoverata. Ma senza speranza di guarigione, abbiamo provato di tutto. La pelle non respirava più e quindi soffocava. Andai a trovarla e stetti davanti al suo letto, senza speranza, e con la mia pallina di stagnola in mano. E poi gliela diedi. Non lo feci con una sorta di certezza o di speranza, bensì soltanto nel disperato tentativo di aiutare in qualche modo mia sorella moribonda. Gliela diedi e le dissi, ecco, abbi cura di questa pallina, prendila, ma fai attenzione a non perderla, ne ho bisogno. Mia sorella prese la pallina e in due giorni l'eruzione cutanea sparì completamente. Tutti i professori si stupirono e parlavano di un miracolo. Eh sì, quindi accadono ancora i miracoli. La pallina di stagnola, alla fine, l'ho riavuta indietro. E ci fu anche un altro caso. La moglie del mio socio Ferge, una pianista, una donna di talento, a un certo punto non riuscì più a suonare le ottave. Allora presi una pallina di carta stagnola di Gröning, la portai alla signora Ferge e le dissi, eccole una cosa da parte di Bruno Gröning, deve tenerla in mano, speriamo che l'aiuti. E l'indomani mi disse, non ho potuto tenerla per tutta la notte, è stato terribile. Ho avuto un formicolio talmente forte alla mano che ho dovuto metterla via. Poi all'improvviso riuscì nuovamente a suonare le ottave e rimase così. Poter riprendere a suonare il piano con eleganza. Bruno l'aveva aiutata. Non c'era alcun dubbio. Bruno Gröning prega un suo amico, il signor Finga, che sta andando in Brasile per lavoro, di fondare delle comunità lì. Desidera espressamente che i circoli degli amici nascano anche all'estero. Gli consegna alcune palline di stagnola da portare con sé e distribuire alle persone in cerca di aiuto. In Brasile avevo un amico che a breve doveva fare un viaggio in Europa e durante la notte aveva avuto un episodio di nefrite. Sua moglie mi aveva telefonato in ufficio, si chiamava Schmucki, era svizzero. Mio marito è molto malato, non può venire in ufficio, sta così male. E domani dobbiamo andare in Europa. Non so cosa gli stia succedendo. Così prese una pallina e andai da lui. Lo feci di mia iniziativa. Naturalmente aveva la febbre. Mi avvicinai a lui, gli parlai e gli dissi «Ecco una pallina di Gröning». E gli raccontai di Gröning. Allora egli aprì il comodino, prese la pallina di stagnola, la ripose lì dentro e chiuse. Devo dire che la famiglia era molto, molto cattolica e devota. Il giorno dopo la moglie mi telefonò e mi disse «Mio marito non ha più niente, il medico è stato qui, domani possiamo partire». Andai subito da loro «Che è successo?» Mi disse «Mi sono svegliato durante la notte, ero madido di sudore e poi ho sentito una voce. Non abbia paura, sono dietro di lei e tengo le mie mani sulla sua schiena». Disse questo, per cui rimasi piuttosto perplesso. Quindi prese in mano la sua pallina e la mise via. Fece un'altra volta lo stesso sogno, ebbe la stessa impressione. E di nuovo un madido di sudore, udì lo stesso discorso che iniziava così. «Non abbia paura». Il giorno dopo andò veramente in Europa in aereo. Anche questa fu una guarigione spontanea. Ho fatto esperienza anche di un'altra guarigione spontanea che riguarda il direttore di una fabbrica di tessuti a San Paolo, qualche tempo dopo. Quest'uomo aveva le dita ad Artiglio, una malattia a causa della quale non poteva più aprire le mani. Allora andai da lui, gli davo del tu e gli dissi «Ascorta, ti ricordi del signor Gröning?» Per quale ti ho raccontato sempre tante cose. E gli consegnai una pallina di stagnola. Il giorno dopo mi telefonò. «Vieni da me, Eric, vieni». Riusciva ad aprire le mani. Ecco, anche se non credo a nulla, né mi lascio influenzare da altri, però questi sono fatti che ho vissuto in prima persona. che ho vissuto in prima persona.